Le interviste di Francesca. Una guerriera che non si è arresa di fronte alle sfide che la vita gli ha presentato. Giornalista di passione e professione. Realizza interviste per Ocrimugello tramite l'ausilio della tecnologia che gli permette di interloquire grazie ad una voce sintetizzata. Ciao sono Francesca, in questa puntata intervisto Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana. Ciao Carlo. Sei un giornalista, presidente dell'Ordine dei giornalisti in Toscana. Insegni comunicazione giornalistica e giornalismo digitale all'Università di Pisa. Come giornalista hai lavorato a Paese Sera, la Nazione e il Tirreno. Hai poi gestito l'esperimento Digital First per il gruppo espresso nelle redazioni di Prato, Montecatini e Pistoia. Dal 2001 al 2006 sei anche stato presidente dell'Associazione Stampa Toscana. Io, come sai, sono molto interessata al mondo del giornalismo, e sfogliando il libro Introduzione al giornalismo, ho notato che sembra quasi un'enciclopedia e il mestiere di giornalista viene rappresentato come un difficile lavoro. È proprio così? Quella di giornalista è una professione bellissima, affascinante, anche se effettivamente piuttosto complicata. Ogni giorno si è di fronte a problemi da affrontare, da risolvere, su come gestire le notizie, che cambiano continuamente, non si può programmare niente, si è alle prese tutti i giorni con qualcosa di nuovo. Ma è anche questo il bello, tanta adrenalina che scorre nelle vene. Sicuramente è un mestiere complicato, lo era prima e lo è sempre di più, perché il mondo diventa più complesso, più articolato, più difficile da leggere, e quindi occorrono non solo esperienza, ma anche competenze professionali, conoscenze, ad esempio le lingue straniere, per poter essere all'altezza di dialogare, di rapportarsi con uomini e istituzioni molto importanti, molto grandi, molto forti, che vorrebbero spesso schiacciare il giornalista e la sua professionalità. Da non molto tempo è stata istituita la Fondazione dell'Ordine dei Giornalisti, di cui sei stato fautore. Il 6 ottobre, alla presentazione a Firenze allo Zeffirelli Teams Room, hai dichiarato che l'obiettivo della Fondazione debba essere uno strumento utile, aperto alla società e al servizio della nostra categoria. Puoi spiegarci meglio cosa intendi? L'Ordine è istituito per legge e ha dei compiti istituzionali molto precisi e questi limiti vanno rispettati, ma c'è un'esigenza anche più generale di far condividere un dibattito sulla libertà di stampa, sulle modalità con cui si fa cronaca, sui limiti, sui doveri, con tutta la cittadinanza. Nessuno può essere escludo da questo dibattito e abbiamo pensato alla Fondazione come lo strumento migliore per essere un veicolo di dibattito e di confronto. Il primo momento importante è stato a settembre una grande manifestazione, un grande convegno a cui hanno partecipato oltre 450 persone, di cui quasi la metà studenti delle scuole medie superiori, sulle pericoli che corre la libertà di informazione in Italia, i tanti casi di giornalisti minacciati, i tanti casi di giornalisti anche colpiti con violenze fisiche per impedire loro di fare il loro mestiere. E non è tanto un problema di salvaguardare la incorrumità di alcuni professionisti, che è pure un valore importantissimo, ma è permettere all'opinione pubblica di avere un'informazione che non subisce condizionamenti dalla violenza di personaggi che devono e vogliono far valere interessi privati poco puliti. Il 15 ottobre a Borgo San Lorenzo, è stato organizzato da Ocmugello la presentazione del tuo ultimo libro, L'Ultimo Tabù, che tratta il tema del suicidio nei media. A questo proposito ti pongo una serie di domande. 1. Perché ritieni importante questo tema? 2. Ci spieghi il ruolo che svolgono i media sul suicidio? 3. Cos'è l'effetto Werther? 4. In Italia c'è una adeguata presa di coscienza tra i giornalisti sui modi di trattare i casi di suicidio? Occorrono, forse, delle linee guida di comportamento? 5. Ritengo che sia importante parlare del suicidio o soprattutto di come comunicare i casi di suicidio perché il suicidio è la seconda causa di morte nei giovani in Italia, è un fenomeno molto rilevante che non possiamo sottacere, che non possiamo nascondere, dobbiamo parlarne e dobbiamo magari imparare a parlare in maniera più rispettosa, più attenta, più circostanziata quando affrontiamo casi specifici. In questo rispondo alla seconda domanda, sta il ruolo del giornalista, capire che cosa dire, come dire, capire se il suicidio nello specifico di una persona è una notizia, se corredarlo con foto, molto raramente ovviamente, quali dettagli dare. Quindi come dare una notizia così delicata, così delicata perché induce a dei fenomeni di imitazione, questo è il cosiddetto effetto Werther, ossia il fatto che essere a conoscenza, apprendere, che una persona spesso simile come profilo personale, oppure che ha un grande carisma e che magari si ammira e si è tolta la vita, induce talvolta delle persone fragili a percorrere quel cammino senza ritorno. E quindi dobbiamo fare attenzione. L'effetto Werther non ci deve dire per forza di non parlare di suicidi, ma ci deve dire di parlarne in maniera attenta, rispettosa di chi sopravvive, dei sopravvissuti, cioè dei parenti, degli amici che sono provati da dolore fortissimo, sicuramente serve scrivere meno dettagli e più informazioni importanti, a cominciare da quelle associazioni, da quegli enti, da quei servizi pubblici che possono offrire un aiuto a chi attraversa un periodo difficile. Veicolare l'idea che il suicidio non è un fatto estemporaneo, misterioso, incomprensibile, imprevedibile, ma che ci sono segnali che si possono imparare a vedere, a cogliere, nei propri figli, nei propri genitori, nei propri amici, a cui bisogna magari dare più attenzione. Io credo che alcuni giornalisti abbiano adeguata coscienza, non tutti. Delle linee guida si possono fare, ma non è facile, perché ci sono tanti casi diversi, tante modalità diverse, tante situazioni differenti. Serve fare tanta formazione, quello che stiamo cercando di fare, perché se si affronta un caso del genere, avendo già riflettuto sull'argomento, lo si affronta meglio, in maniera più responsabile, in maniera meno estemporanea, e quindi il giornalismo può dare un servizio alla società. Io credo che questa sia la cosa più importante. Ringrazio Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, per la sua disponibilità. Un saluto a tutti gli ascoltatori, appuntamento alla prossima intervista. Giornalista di passione e professione. Realizza interviste per O.K. Mugello tramite l'ausilio della tecnologia che gli permette di interloquire grazie ad una voce sintetizzata.